10 agosto 2015 in sopralluogo per una gita che faremo domenica 23 agosto che ha i 30 ottobre e Alpine di Giulia insieme dal rifugio Gilberti fino diciamo qui bivaco mariuscici anzi un po sopra verso il pic di Grubia questo è il monte Sard e poi una carellata per vedere tutta la catena questo è il cimone questo è il montaggio tutta la catena dei grandi monti nostri a semicerchio ecco guardate in fondo forse il mangard e qui il gruppo del canino noi eravamo partiti circa due ore e mezza fa laggiù